benvenuti in questa nuova challenge io sono il guardiano fede e adesso vi mostrerò gli animali più rari che abbiate mai visto furba agile e super carina ecco a voi la volpe danny io sono la volpe danny e adoro fare le challenge oggi nessuno mi potrà abbattere ecco a voi il latte quindi penso che abbiate capito il mio secondo animale è proprio una mucca ti piace fede quello l'ho fatto questa mattina è fresco fresco è buonissimo aspetta per la chi la lo scechero latte scecherato ragazzi state attenti il prossimo animale è un animale pericolosissimo ecco a voi lo squalo robbie se esco di qui ti mangio io ti mangio ti mangio tutto si fa sempre così ma lo squalo robbie è molto buono non preoccupatevi e per finire un animale leggendario vi presento l'unicorno jenny ciao io sono jenny l'unicorno e sono adorabile voglio abbracciare tutti ora che ci siamo tutti diamo inizio alla challenge signor guardiano io non faccio niente senza una ricompensa allora la ricompensa sarà la vostra libertà devo assolutamente vincere questa challenge devo ottenere la libertà ma ovviamente per vincere devo usare la mia furbizio quale robbie ehi cosa stai facendo sto mangiando e cosa stai mangiando ovviamente un pesce solo uno squalo che schifo io non mangio il pesce io mangio la carne sono carnivora io credo che tu sia molto forte che ne dici di aiutare una piccola volpe dolce e carina come hai detto sei dolce e ti mangio ti mangio ok forse è meglio non fare squadra con te mi fai troppa paura sono una mucca noi mucche non facciamo nulla durante il giorno avete sentito è l'ora di fare il latte ovviamente lo sparo con la mia pistola spara latte diamo inizio alla prima challenge vediamo chi riesce a saltare attraverso il cerchio l'unica che mi sembra più agile è l'unicorno jenny ho già in mente un piano ehi signor guardiano ma io sono uno squalo non so saltare sono un pesce non ci siamo proprio squalo robbie non si attraversa così il cerchio allora lo mangio squalo robbie squalo robbie non si mangia il cerchio squalo robbie squalo robbie ora attraverserò il cerchio e dai mucca ma quanto sei lenta cerchio 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 ma mucca mucca non ci siamo non ci siamo proprio mucca sicuramente riuscirò ad attraversare il cerchio io sono un cavallo mi piace saltare i cerchi ecco è il mio momento unicorno guarda cosa ho qui cosa hai giocato il cerchio unicorno ma guarda un po' dove vai scusa ma niente a braccio e vai ha funzionato ora tocca a me ti prego volpedani almeno tu supera questo cerchio è stato un gioco da ragazzi anzi volevo dire da volpi bravissima volpedani hai guadagnato un punto sono già a un punto la libertà è vicina ma si può sapere perché continui a nitrire unicorno mi infastidisci la vuoi smettere come sono felice sono qui insieme a tanti amici vuole le coccole forse cosa? si vuole un abbraccio no non voglio le coccole sono curioso non ho mai mangiato la carne d'unicorno ora ti mangio la gamba ti mangio la gamba no no solo abbracci e poi io credo di sapere di caramelle adesso è arrivato il momento della seconda challenge dovete tirar fuori l'animale che è in voi lascia lascia si lo squalo ce l'ha proprio dentro si si vediamo chi di voi farà il verso migliore mi raccomando ragazzi votate anche voi il verso migliore qui sotto nei commenti beh le volpi sono una specie di cani oppure non lo so vabbè me lo invento speriamo che andrà bene io so so mangiare come uno squalo non so fare il verso dello squalo però è un pesce quindi ma quello è il pesce rosso ehi ehi ha chigliato il pesce rosso io sono un cavallo quindi nitrisco vi siete impegnati tanto con il verso degli animali quindi adesso vi ricompenserò con dell'ottima pappa mucca mucca franci mucca franci oh bella mucca guarda che cosa ho per te del cibo cibo dell'ottima insalata mangia un po' mangia oh ma quanto sei bravo mangia ne vuoi un altro po' ma mangia bravo mangia mangia quanto è brava la mia mucca ehi volpedani ti ho portato la pappa ti ho portato degli ottimi salamini tutti salati piccolini buoni 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 io sono una volpe molto mangiona cosa dovrei fare con quei pochi salamini ho avuto un'idea guardiano lo squalo è scappato lo squalo è scappato non è dove è andato non lo trovo dov'è dov'è così grosso ma non c'è nessuno squalo che strano io l'avevo vista proprio lì comunque il mio piatto è vuoto ho bisogno di mangiare anche io forse mi sarò dimenticato vabbè ne vado a prendere altri altri salamini per la volpedani ecco qui gli altri salamini grazie sì 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 non si è accorto di nulla ecco qui tantissimi salamini per me questi sì che sono buonissimi adesso è il turno dello squalo Robby odio dargli da mangiare cibo 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 datemi il cibo ho fame ho fame sono uno squalo super grande devo mangiare cibo cibo ecco squalo mi ha messo il bastone è fortissimo quello squalo è anche cattivissimo che ti mangi pesciolino? sono delle alici oh degli amici? alici? amici? non sono delle alici no Robby odio sono solo degli amici sono delle alici le alici si mangiano gli amici pure ecco a te grazie signor guardiano marshmallow sapete tutti dicono che lo squalo è cattivo ma secondo me lui è uguale a questo marshmallow gigante ehi mucca ehi mucca sto parlando proprio con te e me? hai visto che lo squalo Robby si è addormentato? no che ne dici di fargli un bello scherzetto? no uffa quanto sei noiosa perché non vuoi farlo? perché non voglio farlo arrabbiare uffa ma mi potresti prestare la tua pistola a spara latte? mh no è mia e allora me la prenderò da sola mucca guarda lì c'è del latte al cioccolato latte al cioccolato? dove? lì ciao ciao squaletto che cos'è? che cos'è? cosa? latte? io di certo non sono stata devi chiedere alla mucca lei è l'unica che spara latte è vero la mucca è l'unica che spara latte ehi mucca 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 ehi tu tu con la tua spara latte mi hai sparato il latte e io ora ti mangio come vuoi signor guardiano mi potrebbe spiegare perché abbiamo questi pulsanti qui? semplice è arrivato il momento della prossima challenge nei vostri pulsanti è stato caricato il vostro verso e dovrete usarlo per rispondere al quiz ovviamente chi risponde bene riceve un punto finalmente potrò sapere qual è il mio verso il verso dello squalo cortesemente vorrei rispondere io ehi ma non era possibile caricare il verso di un pesce cortesemente vorrei rispondere io avrei preferito più un prima domanda ditemi un nome di un mammifero il primo a rispondere è stato lo squalo Robby vediamo un po' se riuscirà a rispondere bene un pesce da mangiare un pesce da mangiare? sbagliato un pesce non è un mammifero andiamo poi dall'unicorno Jenny Jenny dici la risposta ma ovviamente sono gli amici gli amici? ma gli amici non sono mammiferi andiamo avanti andiamo dalla volpedani volpedani la risposta? una scimmia le scimmie sono mammiferi quindi risposta corretta seconda domanda chi è il re della savana? unicorno Jenny sei stata la prima a prenotarti dici qual è la risposta? e se non ricordo male era Gianni il mio amico delle elementari Gianni il tuo amico delle elementari? ma Gianni non è il re della savana passiamo avanti squalo Robby dici qual è la risposta? un pesce da mangiare i pesci sono la risposta a tutto soprattutto se posso mangiarmeli ancora i pesci comunque non ce la fa ad arrivare a capire chi è il re della savana passiamo a volpedani volpedani dici qual è la risposta? beh semplice ma cosa stai facendo? ti stai prenotando ora? ho fatto il più veloce che potevo io la so comunque la risposta è il leone risposta esatta due punti a volpedani terza ed ultima domanda che cos'è? un salmone squalo Robby ti sei prenotato per primo però mi raccomando usa la testa non sbagliare questa volta ok guardiano ha detto che non è sempre un pesce da mangiare la risposta quindi quindi dirò che è un uccello oh squalo Robby ma come fai a sbagliare sempre? ma è ovvio il salmone è un pesce esatto risposta corretta bravissima volpeda pesce pesce allora cappello? no nelle vostre gabbie troverete delle irresistibili bolle scoppiettanti ovviamente per vincere la sfida dovete resistere e non scoppiettarle squalo Robby è tutto il giorno che aspettavo di dire questa cosa sei squalificato quanti ma non so se riuscirò a resistere sono tantissimi quindi se ne scopperò uno solo che bello no devo resistere devo resistere lo squalo e l'unicorno hanno già perso magari se se lo lascio qui e non ci penso e canto una canzone riuscirò a vincere veloce sempre tanto no non sta funzionando è troppo divertente oh no ho perso ma come ha fatto la mucca a resistere? non ho capito il gioco miei cari animaletti è arrivato il momento della sfida finale la corsa alla libertà e smettila di mordermi l'orecchio ma in che senso la corsa verso la libertà e smettila in fondo al corridoio c'è la chiave delle vostre gabbie chi riuscirà a prenderla per primo sarà libero è il mio momento non posso perdere devo vincere squalo ti ricordi lo scherzo che ti ha fatto la mucca? è vero mucca loro due sono sistemati ora manca solo geni unicorno 3 2 1 via devo vincere io spostati devo vincere io voglio la libertà voglio gli amici eccola lì la vedo la chiave ancora pochi passi e sarò libera ehi cosa fai? ho vinto la challenge me la merito davvero credevate che vi avrei liberato? no voi siete i miei animali e resterete sempre in gabbia non ci posso credere ho vinto e il guardiano non ha rispettato le sue promesse non è giusto io voglio uscire di qui mi aveva assicurato la libertà sapete cosa vi dico? ho un'idea uscirò lo stesso di qui ehi squalo sto parlando con te lo sai che sei solo uno stupido pesce rosso pesce rosso? a me allo squalo più grosso prendi questo grazie ehi ehi libera anche me libera anche me finalmente forse dovrei andare a liberare anche gli altri miei amici voi cosa dite? ecco fatto ora posso andare a liberare i miei amici volte sei qui? liberami liberami sì sono qui per liberarti basta che non mi mangi davvero? ok allora tirò la bocca chiusa ecco qui ora siamo tutti liberi dobbiamo scappare prima che il guardiano si svegli amica grazie andiamo 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 gli animali non dovrebbero stare in gabbia amica animaletti è l'ora del bagnetto ma ma dove sono tutti i miei animali? no nooo oh Awww